Quest'anno mi voglio fare un albero di Natale di tipo speciale, ma bello veramente. Non lo farò in tinello, lo farò nella mente, dove non c'è soffitto e l'albero può crescere alto alto, dritto dritto, quanto gli pare, con centomila rami e un miliardo di lampadine e tutti i doni che non stanno nelle vetrine. Un raggio di sole per il passero che trema, un ciuffo di viole per il prato gelato, la soluzione giusta del problema più complicato per lo scolaro debole in aritmetica, un aumento di pensione per il vecchio pensionato, lo stipendio raddoppiato al professore di storia e l'olio a buon mercato. E poi giochi, giocattoli, balocchi, quanti ne puoi contare a spalancare gli occhi? Un milione, cento milioni di bellissimi doni, uno più gratis dell'altro e al posto dei cartellini i zeppi di numeracci, i nomi dei bambini che non ebbero mai un regalo di Natale e per loro ogni giorno all'altro è uguale e non è mai festa. Perché se un bimbo resta senza niente anche uno solo, piccolo, che a piangere non si sente e sta chissà dove, Natale è tutto sbagliato, da rifare per bene, come una divisione se non viene la prova del 9.